Firenze 5 febbraio 2023 si avvicina la data del 18 di febbraio 2023 alle ore 17 dove presso il grande hotel Villa Medici il sottoscritto il professor Carlo Tavarmina, la sceneggiatrice Cristina Laziosi e la dottoressa Acqua Ota presenteremo il soggetto e la sceneggiatura del film Il Bandito da Firenze, sponsor ufficiale dell'evento Chiara Natali con la sua azienda e la sua attività. Bene detto questo vi informo che piano piano la sala si sta riempiendo arrivano adesioni quotidianamente anche ieri altre quattro e l'argomento interessa saranno presenti i giornalisti saranno presenti i fotografi. Questo è un evento a cui io tengo moltissimo perché è il preludio a una situazione che oramai sta andando avanti da tanto tempo riguardo a Matteo Renzi, Carlo Tavarmina e sottoscritto Alessandro Maiorano. Dopo diversi libri che noi abbiamo fatto, L'uscere maledetto di Palazzo Vecchio, The Cursor uscio a Palazzo Vecchio, Il Bandito da Firenze, Gli Amici miei di Firenze e il grandissimo fumetto a tiratura unica dal titolo Il Diavo dell'Acqua Santa, finalmente finalmente è arrivato anche il momento del film ed è un momento topico perché un film su questa vicenda vera e reale è un argomento che sicuramente interesserà moltissimo i produttori, le piattaforme televisive cinematografiche ed è un sogno e desiderio che io sto tentando di realizzare oramai da ben tre anni anche se tutta la questione è legata a Matteo Renzi e sta andando avanti dal 2011-2012. Per cui io vi invito tutti al Grand Hotel Villa Medici di Firenze in via al Prato, il Grand Hotel Villa Medici è quello strepitoso albergo a 6 stelle, zona porta al Prato, a partecipare. Chi vuole partecipare ha due possibilità o chiama l'avvocato Carlo Tavormina alla segreteria allo 06-3242-632 oppure su whatsapp chiama il 320-144-2520 dando la sua adesione collasciando nome e cognome. Sponsor dell'evento come ho già detto è la bella e dolce Chiara Natali. Arrivederci a tutti, vi aspettiamo il 18 febbraio al Grand Hotel Villa Medici a Firenze.